Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Super Mario 3D Land In questa puntata dovremo affrontare la casa dei fantasmi Per questo livello vi consigliamo il potere fuoco Che noi purtroppo non abbiamo Perché ci siamo dimenticati di andare a riprenderlo Ok, dovete salire sulla piattaforma In qualche modo le monete vi indicheranno un po' la strada Voi guardate il fantasma per farlo fermare Perfetto, prendiamo il cubo mistero Mamma mia, siamo poi anche piccoli, come facciamo? Prendiamo la moneta Scappiamo, attenti a questi fantasmi, fate in fretta Ok, basta che girate in senso orario Ah, spariscono Lasciamo stare Perfetto, salutiamo Finalmente siamo arrivati alla bandiera Oh, la stella Per fortuna La prendo signor Ok, muoviamo il sedere Oh, una foglia tanuki C'è una foglia tanuki Perfetto Ok, entriamo nel tubo Oh, qui ci saranno una bella moneta stella E il tempo Ecco Ecco il trucco Perfetto Perfetto Abbiamo ottenuto entrambi gli oggetti Ora torniamo indietro Dove e quale sarà la strada giusta? Quale sarà? Questa no, di certo Sarà questa? Sì Sarà quest'altra? Perfetto Teletrasportiamoci Chissà dove Ah, guardate Ah, guardate Una bella moneta stella Ok, procediamo C'è un mega fantasma Che ci insegue Oh, porca miseria Sbrighiamoci Ai, 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 ai Direi di fare più in fretta Ok Entriamo Usciamo, anzi Almeno abbiamo concluso Anche il difficile livello Della casa dei fantasmi Livello completato Ok Salviamo Oh mamma Procediamo Verso quest'altro livello Questo livello Me lo ricordo È molto difficile Solo con la bravura Del nostro Lorenzo Potremmo farcela Oh mamma mia Dovete stare Molto attenti Ok Perfetto Salite Ok Attenti Ok Perfetto Uh Teletrasportiamoci Qui si potranno Teletrasporteremo Oh la bandiera Meno male Perfetto Iniziamo subito Perfetto Saltiamo su quest'altra Piattaforma verde Come vedete Il livello Si va sempre di più Complicando Vabbè Era molto difficile Ragazzi Si può pure Sbagliare È concesso Perfetto Continuiamo Provi a distruggere le api Signor Lorenzo Forse se le leva Ditorno Prova a distruggere Non le puoi distruggere Vabbè Distruggendole è molto più facile Ma il nostro amico qua Si vuole complicare la vita Stia attento Perfetto Oh mamma mia Scappiamo Bisogna Premere tutti i punti interrogativi Ok Qui ci sarà il tempo Ok Ripremiamoli Sennò qui ci lasciamo le penne Perfetto Si muova signor Lorenzo Che c'è il tempo Vabbè Rimai Ok Riproviamo Opla 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 Ci teletrasportiamo la bandiera Allora bisogna Bisognava saltare su Bisognava saltare sulle piattaforma E con lo slancio Faltare anche sull'altra Comunque Abbiamo Risolto anche questo problema Allora Per questa puntata Di Super Mario 3D Land E' tutto Ci scusiamo Immensamente Per tutti gli errori commessi A presto Questa c'è Questa c'è azortare sull'ultimo plays Allora Grazie.